Amici serale 7 gradi puntata, l'eliminato, spoiler list semifinalisti. Chi è l'eliminato della settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, pare che non prenderà parte alla semifinale della 22esima edizione del noto talent show di Canale 5 Cricca. Amedeo Venza ha lanciato lo spoiler sul suo account di Instagram e non ha lasciato sorpresi i fan del programma. Finora l'esperto di gossip ha sempre centrato il nome dell'eliminato delle recenti puntate del serale. Inoltre, era ormai risaputo che Giovanni Cricca avrebbe a breve lasciato la scuola. Aaron, l'allievo con cui si è ritrovato ad affrontare l'ultimo ballottaggio, giorni fa non aveva trattenuto le lacrime al solo pensiero che questa settimana sarebbe uscito il suo amico. Ed ecco che ora sembra proprio che sia arrivato il momento di salutare Cricca, uno dei volti protagonisti di questa 22esima edizione. Con lui è accaduto qualcosa a cui mai prima d'ora la produzione aveva dato l'ok. Durante la fase del pomeridiano, Cricca ha perso una sfida ed è stato eliminato dal programma. Sono nate tantissime polemiche per l'uscita di Giovanni, che aveva conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua maturità e sensibilità. Oltre che con la sua voce, nelle prime settimane del 2023 ad Amici 22 è nata una bufera intorno alla festa di Capodanno, dopo della quale è nato il Noce Moscata Gate. Proprio attraverso questo fattaccio. Ecco che a Cricca è stata data la possibilità di rientrare in gioco. Questa è stata la prima volta che un allievo ha potuto riprendere il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi. La stessa padrona di casa ha anche sottolineato, però, che non accadrà mai più. Cricca è riuscito ad approdare fino al serale e pare, secondo lo spoiler di queste ore, che abbia sfiorato la semifinale del programma. Quando sono state lanciate le anticipazioni della registrazione di ieri, che andrà in onda sabato 29 marzo? Il pubblico ha già dato per certo che il nome dell'eliminato. Il cantante di Australia è finito più volte al ballottaggio finale durante il serale. D'altronde, molti telespettatori non riescono proprio a immaginare una finale senza Aaron. Ma se quest'ultimo sarà presente nell'ultima puntata del serale di Amici 22 si scoprirà solo la prossima settimana. Durante la semifinale. Ora che sembra esserci quasi la certezza sull'eliminato della settima puntata. Si può fare una lista dei semifinalisti, ovvero di coloro che stanno sfiorando la finale. I semifinalisti di questa edizione sono Angelina Mango, Maddalena Svevo, Isobel Kinnear. Wax, Mattia Cenziole e Aaron. Chi tra loro approderà in finale? Per scoprirlo è necessario attendere ancora un'altra settimana.